Asugi e l'ospedale generale di Isola hanno sottoscritto una lettera di intenti dalla quale si origineranno tre importanti protocolli operativi transfrontalieri, a loro volta il risultato finale di uno sforzo congiunto effettuato dai rispettivi team progettuali nell'ambito del protocollo Interreg. Essi riguardano la gestione cosiddetta litoraneo-carsica dell'afflusso verso Trieste di feriti in corso di maxiemergenza, un accordo per la gestione del paziente con politrauma ed uno per la comunicazione radio e la trasmissione di dati in casi di emergenza con massiccio afflusso di feriti. Questi protocolli rappresentano un ulteriore passo verso il rafforzamento della capacità istituzionale e della governance transfrontaliera, così come auspicato dall'Unione Europea. Il rapporto di collaborazione fra Asugi l'ospedale di Isola, già iniziato con gli Interreg precedenti, dedicati ad individuare forme di cooperazione transfrontaliera nei settori dell'emergenza, della cardiologia e della chirurgia generale, ora dunque si dota di un ulteriore strumento operativo al servizio di una sempre maggiore integrazione fra i territori nelle zone transfrontaliere. Nasce da un'idea di potenziare una rete di collaborazione tra Italia e Slovenia in caso di necessità sanitarie e cosa intendo in questo senso? Nello specifico di problematiche legate a maxiemergenza, quindi eventi che coinvolgono grandi quantità di feriti di qualsiasi tipo, calamità naturali, eventi biologici, nucleari potenzialmente, ma anche banalmente un grande incidente che coinvolge più feriti. Questo un po' per dare supporto soprattutto al lato sloveno laddove noi abbiamo un ospedale grosso, un ospedale hub come quello di Trieste, mentre sulla parte controparte slovena l'ospedale più grosso è quello di Lubiana, quindi a distanze anche considerevolmente impegnative.